BATENZA! BATENZA! VARITA! E subito le K-12! Conte Moschena all'interno EDIX! Marvin Moschena all'interno! Sopper! Moschena! Conte Polizia SIN AVERA Partete di Vittorio Battenta Red Bull con subito due BATENZA! 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 Tremanore anche con il numero 89 in cercaenza parte centrale della MX2 Amatova con Moschella deciso a riprendersi e a sistemare il primo